Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast. Oggi parleremo di Substack e vedremo 16 consigli per iniziare a guadagnare con questa piattaforma. Sono Arian Shirani di arianshirani.com e iniziamo subito. Quindi la guida definitiva per chi è nuovo al mondo delle newsletter, Substack aiuta molto a poter monetizzare i propri clienti. Dal giorno in cui ho iniziato a scrivere sul mio blog e a cercare di capire come ottenere risultati in questo settore ho ricevuto sempre lo stesso consiglio. Inizia a creare una mailing list. Confesso che non ho mai avuto il tempo di crearne una ma ora che ho molta più esperienza ho capito il potenziale. Se devo fare un minimo di guadagno facendo il blogger devi innanzitutto creare una mailing list. Allora perché non iniziare subito quest'anno? Beh creare una mailing list può essere un compito arduo per alcuni. Fortunatamente esiste una società chiamata Substack che rende incredibilmente facile il tutto. Ammetto che mi piace quando le cose sono semplici e veloci. Ecco perché ho scritto questa guida completa e pratica per i nuovi utenti intenzionati ad usare la piattaforma Substack. Quindi vi invito a visitare il sito arianshirani.com troverete anche il link in descrizione da qualche parte per vedere diciamo la guida completa. La prima domanda è posso guadagnare con una newsletter Substack? Beh certo che sì ma non aspettarti di guadagnare subito milioni. Cominciamo ponendoci alcune domande. Il tuo obiettivo è lasciare il lavoro e iniziare una nuova carriera? Stai cercando di creare una nuova attività secondaria per racimolare qualche soldo extra? Vuoi solo iniziare a scrivere e creare contenuti per la passione principalmente? È molto importante individuare i nostri obiettivi prima di addentrarsi ulteriormente in Substack ma fortunatamente per noi tutti e tre sono potenzialmente realizzabili sulla piattaforma. Se sei nuovo con i blog e le newsletter in generale dovresti anche essere consapevole che questo è un percorso lungo verso il successo. Non è una cosa che succede da oggi a domani. Non diventerai mi caricco così da un momento all'altro. Sarebbe proprio bello. Indipendentemente da ciò che il corso di marketing ti dice. Quindi avere successo su una qualsiasi di queste piattaforme ci vuole tempo, ripetizione, qualità e questo probabilmente ti porterà al successo. La buona notizia è che se segui i miei consigli sarai sulla buona strada per guadagnare con Substack o anche potenzialmente ottenere guadagni oltre i 175 mila euro al mese come Robert Cortrell. Beh, dopo molti anni di duro lavoro di alta qualità ovviamente. Cambiare carriera. Sei qui per iniziare una nuova carriera magari. Sappi però che ci vuole tempo, ripeto. Dal momento che per fare soldi in questo campo serve tempo avrei potuto cimentarmi in questa impresa gradualmente mentre lavoravo per i miei clienti. Costruirmi man mano un pubblico, riprodurre con calma i contenuti e migliorare strada facendo. Ma ho dovuto accelerare questo processo. Infatti ora dedico quasi ogni giorno anche il mio blog e cerco di costruirmi un pubblico anche tramite newsletter. Consiglierei quindi di farlo come secondo lavoro prima di dedicarsi esclusivamente a questo. In ogni caso inizia subito con guide come la mia per imparare le basi di ciò che vuoi fare. Ci sono molte informazioni a pagamento in giro ma c'è ancora più materiale gratuito. Ti darò tutte le basi per farti un'idea di Substack se può fare per te oppure no. Un lavoro secondario. Per coloro che vogliono usare Substack come fonte di guadagno extra ma non principale, benvenuto. Una delle cose belle delle newsletter è che non devi necessariamente lavorarci a tempo pieno. La scelta è completamente tua, puoi dedicarci un'ora alla settimana come 20. E poiché ci vuole tempo per fare soldi su Substack ha senso fare un po' di lavoro in modo costante ogni settimana per costruire lentamente una base di contenuti. Poiché si tratta di Substack e non di un normale blog, il tuo pubblico e il tuo seguito dovrebbero crescere parallelamente alla produzione di contenuti. Scopriamo le basi di Substack e se questa è la piattaforma giusta per iniziare attività di scrittura o podcast. Sono qui, giusto per divertirmi. Se stai solo cercando un modo per convincere le persone a scoprire le tue capacità di scrittura, Substack è il posto perfetto anche per questo. È gratuito, è incredibilmente facile da navigare e configurare, non ci sono penalità per aver saltato una o due settimane qua e là. Il fattore free to use è sicuramente un enorme vantaggio e per creare un blog personale su WordPress eccetera può richiedere del tempo per imparare o costi derivanti da pagare qualcuno per farlo e quindi Substack risolve anche questo. Le piattaforme freemium facili da usare sono ottime per chi scrive per hobby e chissà forse le persone apprezzano o apprezzeranno il tuo lavoro abbastanza da permetterti di guadagnarci e anche viverci. Quindi per tutti e tre i tipi di persone sopra credo che Substack abbia un posto per loro. Tieni presente che ci vuole tempo per avere successo su questa piattaforma o qualsiasi altra comunque. Ma se ti piace scrivere e ami che le persone vedano il tuo lavoro probabilmente gli sarai fedele. Prima che tu te ne accorga potresti ritrovarti guadagnare qualche centinaio di euro extra ogni mese o potenzialmente molto di più in seguito. Diamo ora un'occhiata ad alcuni fatti chiave su Substack per iniziare. Vediamo un po' le statistiche di Substack. Naturalmente vogliamo tutti realizzare il sogno di essere in grado di guadagnarci da vivere scrivendo e creando contenuti. Ancora meglio se proviene dai blog, dai post inviati ai nostri follower. Ma essendo una piattaforma gratuita c'è un'ampia varietà di guadagni dalle newsletter su Substack. E in più la piattaforma è ancora all'inizio. Questa è una buona cosa perché i primi utenti vengono supportati molto di più delle nuove piattaforme rispetto a chi arriverà dopo. Ecco alcuni dati di Substack in termini di iscritti. La società è stata lanciata nell'ottobre del 2017 quindi puoi ancora sfruttare il vantaggio dei primi arrivati. Ci sono oltre 50.000 subscribers che pagano almeno una newsletter. Il 20% di tutte le newsletter offre una versione a pagamento. Ci sono milioni di lettori sulla piattaforma e migliaia di scrittori. Purtroppo oggi è difficile trovare un numero esatto degli iscritti totali. Ha una domain authority di 68 secondo mods e 96 per medium. Una domain authority intendo diciamo l'autorità appunto del dominio. È probabile che la fascia dell'1% dei migliori scrittori stia da sola guadagnando la maggior parte dei soldi. Ma i 10 migliori scrittori sulla piattaforma guadagnano tra i 9 e i 170 mila euro al mese. Ebbene sì. Perché scrivere newsletter su Substack? Per fare soldi ovviamente ma in modo migliore rispetto ad altre piattaforme. L'intera premessa di Substack è riportare il potere al singolo scrittore. Molti di noi hanno fatto affidamento su piattaforme online per creare un pubblico e si spera monetizzarlo ma c'è un rischio della piattaforma che comporta potenziali problemi. Il pubblico non viene trasferito su altre piattaforme. Le piattaforme possono chiudere e perderai quel pubblico per sempre. Ad esempio MySpace, guarda Google Plus, Vine e così via. Devi rispettare le regole di quella piattaforma o sarai costretto ad abbandonarla. Quindi anche Substack, anche se Substack è una piattaforma in sé, l'intera missione è quella di darti come creatore di contenuti tutto il potere. Crediamo che scrittori, blogger, pensatori e creativi di ogni estrazione dovrebbero essere in grado di proseguire la loro curiosità generando entrate direttamente dal proprio pubblico e alle loro condizioni. Una citazione di Substack. Ti danno quindi questo controllo chiave in più rispetto ad altre piattaforme. Puoi scaricare la tua mailing list ogni volta che vuoi. Scegli quali post, per esempio le email, sono gratuiti e quali vengono addebitati. È possibile impostare la quota di abbonamento se lo si vuole mettere a pagamento. Mantieni le proprietà di tutti i contenuti che crei e puoi persino esportarli. È un servizio gratuito. Spiegherò come fanno a guadagnarci loro più tardi. Un'altra cosa davvero interessante è che non devi per forza inviare newsletter scritte. Substack ha una funzione podcast in base alla quale puoi utilizzare l'audio. Nel mio articolo lascio anche una guida approfondita su questo. In ogni caso per chi cerca un modo divertente e veloce per iniziare a creare una nuova mailing list Substack è un ottimo posto per iniziare. Un'altra domanda che ci poniamo è le persone guadagnano molti soldi con Substack? C'è una quantità sorprendentemente grande di creatori e scrittori su Substack che guadagnano un sacco di soldi ogni mese. Sono ancora scioccato quando vedo la sezione dei 25 migliori scrittori pagati su Substack. Il fatto che le persone vengano pagate migliaia se non anche decine di migliaia di dollari al mese per una newsletter è incredibile. Ero curioso di vedere il background di alcuni dei maggiori scrittori e come hanno fatto ad accrescere i loro iscritti così rapidamente. Ecco alcuni esempi di alcuni dei maggiori scrittori su Substack. Bill Bishop ha aperto nel 2011 un blog in Cina di notizie che non venivano mostrate in occidente. Quando si è unito a Substack come uno dei loro primi creatori aveva 30.000 veri fan. E' interessante notare che il suo dominio non è .substack probabilmente perchè è il primo sulla piattaforma. Il numero 2 su Substack. Migliaia di subscribers che pagano 13 euro al mese circa. Possiamo presumere che le sue entrate lorde mensili siano comprese tra i 13 e i 115 mila euro. Passiamo ora a Anthony Pompiano, The Pomp Letter. Ha iniziato a investire seriamente nel 2015 e a condividere le sue conoscenze tramite email con la famiglia e gli amici. In particolare si concentra sull'intersezione tra finanza, tecnologia, imprenditorialità ed economia. Il suo sito web afferma che ha più di 45.000 membri nelle sue liste di posta elettronica sia prima di Substack che dopo. Lui si posiziona come sesto su Substack. Migliaia di abbonati che pagano 9 euro al mese. Possiamo presumere che le sue entrate lorde mensili siano comprese tra i 9.000 e i 86.000 euro. Dopodichè abbiamo Nadia Bolz Weaver. Autrice di numerosi libri di successo, scrive e parla di mancanze personali, dipendenza, grazia, fede e qualunque altra cosa voglia. Lei è posizionata al numero 8. Niente male direi. Migliaia di abbonati che pagano 5 euro al mese. Possiamo presumere che le sue entrate lorde mensili siano comprese tra i 4.500 e i 39.000 euro. Punti chiave. Sei già un grande seguito sui social media via email o sul tuo blog? Puoi partire col piede giusto. Nicchie d'argomento. Tutte queste persone hanno un'area molto specifica di cui parlano. Ci vuole tempo per costruirsi un seguito. La maggior parte delle persone di cui sopra hanno impiegato circa cinque anni prima di arrivare dove sono ora. Newsletter gratuita. Creando prima una mailing list gratuita, questi scrittori erano ben posizionati per iniziare a far pagare contenuti extra dopo aver conseguito un certo seguito. Quali sono alcune newsletter con rendimenti medi su Substack? Ryan Onhalon, se si dice così chiedo scusa per la pronuncia, nicchia football 6 euro al mese o 60 all'anno. Hola Oh Hanlon è un podcaster e saggista sul tema del calcio. Il suo podcast si chiama Infinite Football ed era un senior editor di The Ringer. Non lo so. Azim Azhar. Tecnologia e umanità. 17 euro al mese o 105 euro all'anno. Scrittore imprenditore prolifico. Azim è anche membro del consiglio del futuro globale del forum economico mondiale sull'economia e società digitali. Ha ricevuto molti riconoscimenti anche dal fondatore di Spotify. Quindi insomma sono anche persone abbastanza conosciute hanno fatto grandi cose nella loro vita. Seth Simons. Nicchia umorismo. 5 euro al mese, 51 euro all'anno o 130 euro come contributore speciale. Seth era un'assistenza al montaggio di commedie presso Paste Magazine. Scrive di intrecci tra commedia e lavoro. Quindi abbiamo tante persone che fanno tante cose diverse ma che comunque hanno fatto qualcosa di grande nella loro vita. Chiaramente questi sono numeri anche abbastanza grossi appunto perché c'è un motivo dietro ecco. Ora vediamo cos'è esattamente Substack. In poche parole Substack è una piattaforma di iscrizioni a newsletter. Un creatore di contenuti si unisce alla piattaforma gratuitamente e quindi invia i blog post come email ogni volta che lo desidera. Se il creatore di contenuti desidera addebitare abbonamenti mensili per quei articoli selezionati diciamo può farlo. Diversamente può anche renderlo completamente gratuito. La parte migliore è che è assolutamente gratuito aderire alla piattaforma e utilizzarla. Substack guadagna addebitando una percentuale il 10 per cento di qualsiasi abbonamento a pagamento guadagnato dai produttori di contenuti. Quindi se la newsletter è completamente gratuita lo è anche la piattaforma per i blogger principalmente. È una società quindi nuova fondata nel 2017 è stata creata da Chris Best, Jarai Seth e Amish McKenzie tutti i veterani della Silicon Valley e sono sicuro che questo dettaglio ha contribuito a garantire grossi finanziamenti. In pochi anni hanno raccolto oltre 21 milioni di dollari e si ritiene inoltre che abbiano appena superato la soglia di entrate di un milione all'anno. Non male per una società di newsletter che si basa su una premessa vecchia di decenni. Qual è il potenziale per un creatore di newsletter? Tanto per cominciare bassi rischi della piattaforma. Maggiore è la possibilità che Substack abbia successo, maggiori sono le possibilità anche per te. È importante sottolineare anche che siamo ancora agli inizi. Se hai mai approfondito il motivo per cui alcune persone riescono a diventare grandi sulle piattaforme, uno dei modi più comuni è essere early adopter. Quindi per le piattaforme che hanno successo nel lungo periodo i primi a farne parte spesso saranno quelli con più followers in seguito, sempre che questi siano rimasti a lui fedeli, chiaramente. Per quelli più curiosi sui fondatori hanno fatto una AMA su Reddit nel 2018. Il link è nell'articolo. È interessante ascoltare la loro prospettiva sulle cose, specialmente riguardo alcune delle domande più schiette. Substack è ancora nelle fasi iniziali, ma col successo dimostrato finora è già un ottimo momento per registrarsi. Iscriversi a Substack è molto semplice. Ci sono, vediamo qualche passaggio, quindi basta andare, vabbè io nell'articolo inserirò tutti i passaggi, quindi così a voce penso sia un po' inutile. Come funziona la scrittura di una newsletter su Substack? Quindi è qui che inizia il divertimento. Prova a pensare alla tua newsletter come un blog più un mittente di post elettronica. Scrivi un post sul blog o lo importi e poi viene inviato ai tuoi followers. Quando crei i post hai la possibilità di scegliere se sarà sotto abbonamento o sotto la possibilità di leggerlo se si è abbonati o gratuitamente. Quindi tutto è sotto il tuo controllo. Se desideri avviare una versione a pagamento della tua newsletter ci sono alcune cose da considerare prima. Quanti iscritti hai o sei stato in grado di importare attualmente? Quanto stai cercando di guadagnare? Il pubblico è molto interessato a te? Alto tasso di apertura delle mail? Più del 30%? Oppure no? Substack afferma che un tasso di conversione del 10% dagli abbonati gratuiti è quello a pagamento è considerato buono. Quindi se stai cercando di guadagnare 500€ al mese con una newsletter addebitata a 5€ avrai prima bisogno di partire da circa 1000 iscritti gratuiti. Non irrealizzabile ma per un blogger nuovo di zecca ci potrebbe volere un po' di tempo. Devi anche considerare la tua strategia tra newsletter a pagamento e newsletter gratuita. Vuoi che i tuoi post ti vengano pagati? Ciò potrebbe limitare la tua capacità di ottenere nuovi iscritti. Vuoi mettere gratuitamente tutti i tuoi migliori contenuti per guadagnare iscritti o renderli disponibili solo come contenuti a pagamento? Offrirai sconti o offerte promozionali? Darai lead magnets per le iscrizioni a pagamento? E con lead magnets intendo download gratuito del tuo ipotetico ebook su kindle. Insomma hai anche molta flessibilità quando imposti il prezzo. Puoi impostare una tariffa mensile, puoi impostare una tariffa annuale solitamente scontata, puoi aprire uno speciale livello supporter affinché i tuoi super fan paghino quello che vogliono al mese. Puoi sempre offrire sconti per iscrizioni e come regola generale nel marketing è meglio iniziare con un prezzo più alto che più basso. Alle persone va sempre bene quando riduci i prezzi ma combattono con le unghie e con i denti quando cerchi di aumentarli. Quindi come puoi vedere ci sono molte cose a cui pensare prima. Suggerirei comunque di leggere altre guide che puoi trovare sicuramente su google anche le guide sui pagamenti per esempio come punto di partenza. Io comunque ti lascio un link nell'articolo sul mio sito che ricordo è ariancirani.com e quindi vi consiglio di visitarlo. Bene, in che modo Substack paga le persone? Beh, come ci raccimoliamo diciamo sti soldini? Quando arrivi al punto di avere un piano di abbonamento a pagamento per i tuoi lettori e si spera alcuni lettori disposti a pagare. Puoi iniziare a fare i soldi, i soldi. Substack utilizza Stripe che è una piattaforma di pagamento anche molto conosciuta sicuramente ne avrai sentito parlare. Questo ha diciamo dei vantaggi e svantaggi in realtà. Non è troppo difficile registrarci a Stripe ma devi inserire molti dettagli personali. È ancora più semplice se ne hai già uno configurato ovviamente però è un po' diciamo la parte più dura dell'intero processo probabilmente. Stripe è anche limitato ad alcuni paesi in questo momento a causa delle normative finanziarie. Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia eccetera eccetera. Anche Italia tra l'altro che penso che sia quello che ci interessa di più. Tuttavia stanno aggiungendo più paesi ogni giorno. Hanno anche un programma beta per paesi come l'India. Puoi vedere l'elenco comunque aggiornato nel link nell'articolo. Se sei diciamo nell'elenco dei paesi puoi accedere all'area di registrazione a pagamento di Substack per seguire la configurazione con Stripe. In alternativa puoi andare sul sito di Stripe e farlo da solo. Quanto a commissioni? E qua vediamo un attimo come funziona. Substack è completamente gratuito per gli iscritti alla newsletter gratuita. Quando inizi a guadagnare Substack dedurrà una commissione del 10% a tutto ciò che guadagni tu. Quindi come si diceva prima se tu guadagni anche Substack guadagna. Bene cosa serve per aver successo su Substack? Scrivo questo tipo di articoli nella speranza comunque di poter far risparmiare molto tempo alle persone in quanto raccolgo tutte le informazioni utili in un unico posto. Quindi ovviamente questo articolo non sarebbe completo senza un riepilogo di ciò che ho visto funziona per le persone su Substack. Ovviamente facendo anche un po' di ricerca su Google ho guardato qualche case study per racimolare qualche informazione per voi. Ottimizza la tua biografia. Rendila divertente e interessante per il potenziale lettore. Metti il tuo link Substack ovunque. sulla biografia dei tuoi social media alla fine della tua firma email ovunque tu possa pensare di metterla. Invita i tuoi amici. Quale è il miglior modo per ottenere l'effetto virale su Substack se non invitare la tua famiglia, i tuoi amici, dar loro il codice promozionale gratuito per l'abbonamento a pagamento eccetera eccetera. Sii coerente. Se hai detto che pubblicherai una volta alla settimana assicurati di farlo. Alta qualità. Qualunque sia la tua nicchia sforzati di migliorare il tuo modo di scrivere per essere informativo e unico con il tuo tocco personale. Avere una nicchia. Come hai visto dagli esempi di scrittori podcaster che vi ho elencato sopra e citato nel podcast. Ognuno dovrebbe avere una propria nicchia in realtà. Purtroppo una newsletter generalista potrebbe essere difficile da far crescere su Substack. Ma questo vale anche sul blog, anche sul canale YouTube. Vale su tutto principalmente. Quindi avere una nicchia è sempre molto importante. Trova un pubblico simile. Se stai iscrivendo su un argomento ha senso uscire dove quel pubblico esiste già. Altre piattaforme, siti particolari, gruppi Facebook. Ci sono molte community a cui partecipare e in modo non diciamo aggressivo. Promuovere anche la tua newsletter. Collabora con altri autori. Se sei un fan del lavoro di un altro autore di nicchia simile valuta la possibilità di metterti in contatto con lui per fare in modo che possiate promuovere reciprocamente i vostri contenuti. Questo può essere fatto su blog, newsletter o altre piattaforme. Tentare non nuoce. Comunque i suggerimenti di cui sopra che ho elencato un attimo fa sono pensati per i blogger principianti. Se sei già stabile con un blog, sei presente appunto su altre piattaforme, sarà molto più facile attirare il tuo pubblico. Puoi importare lenchi di mail in Substack. Prepara i tuoi follower con offerte e sconti per la newsletter. Chiedi loro aiuto per spargere la voce, ma fai attenzione a non inviare spam. Offri loro omaggi extra, ebook, post esclusivi, sconti speciali dedicati e così via. Per quelli con una presenza e un seguito in espansione faccio notare una cosa. Nel momento che vi sto dicendo questa cosa il link canonico non cambierà su Substack. Anche se importi i post del blog da altrove, spero che ciò venga modificato in futuro, ma dovresti sapere che può influire sul tuo SEO. Se Google determina che i tuoi post sono contenuti duplicati. Se non sei pratico del mondo della SEO, ti consiglio di leggere altri articoli che ho sul mio blog. Un modo per aggirare questo problema è semplicemente pubblicare l'originale su Substack e importarlo su un'altra piattaforma in seguito. La maggior parte delle altre piattaforme ti consente di modificare il link canonico per far felice Google. Un altro metodo che ho visto è quello di dividere i post tra piattaforme diverse. Puoi inserire contenuti esclusivi su Substack con contenuti gratuiti che vanno altrove. Questo è un bel modo per costruire i tuoi piani a pagamento. What's next? Se quanto ho descritto prima in questo podcast o nel mio articolo, ti suggerisco di fare quanto segue come passaggi successivi. Vai su Substack e cerca l'area di cui sei interessato a scrivere. Dai un'occhiata agli autori più popolari o esplorare le diverse newsletter. Guarda cosa fanno, controlla i loro profili, bio, piani di pagamento, eccetera per quella nicchia. Trai le tue conclusioni su ciò che ritieni adatto a te e annotalo. Registrati, è facile ci vogliono circa 5 minuti. Leggi il sottomenu, ci dovrebbe essere una voce, risorse per, diciamo, avere più informazioni sull'importazione della newsletter, sulla ricezione anche dei pagamenti, eccetera. Inizia a scrivere e fare podcast e soprattutto creare. Bene, non ti resta che diventare ricco e, però ricordati di me, se vuoi scoprire altri modi o strumenti per guadagnare online, ti consiglio di leggere le altre mie guide sul mio sito web, ariancirani.com. È tempo di ottenere followers. Buona cazzane dei contenuti e buona fortuna su Substack!